Gorilla, cosa fai? Lucertola, sto mangiando un kebab piccante. Me lo fai assaggiare? Meglio di no, è piccantissimo. Dai, guarda che a me piace il piccante. Ok, assaggia. Gnam! Ah, ma è piccantissimo! Aspettami che vado al fiume a bere un po' d'acqua. Ciao, Lucertola, come mai hai così tanta sete? Ciao, Coccodrillo, ho molta sete perché Gorilla mi ha fatto assaggiare il suo kebab piccante. Kebab piccante? Io lo adoro, adesso vado da lui a chiedergliene un pezzo. Ciao, Gorilla! Lucertola, ma quanta acqua ti sei bevuta?